OSTAR! OSTAR! E' piena collaborazione ai colleghi di Brescia E poi vogliamo vedere se questo ci spinge domani a qualcosa di positivo Siete qui oggi comunque con un sentimento di rabbia Siete qui con un sentimento di sfiducia nei confronti del futuro? Sì perché noi abbiamo le istituzioni che ci supportano Però effettivamente non vediamo uno sbocco Perché ad oggi dopo 75 giorni di presidio Oltre a questo non abbiamo altri risultati Siamo nella speranza veramente del giudice Grazie Prego